Parliamo di estroboloma. Quando una donna non va regolarmente in bagno tutto ciò che è materiale di scarto che dal fegato viene poi portato attraverso la bile a livello delle feci, quel materiale lì rimane stagna a livello dell'intestino per più tempo e quindi può ritornare in circolo. E cos'è che può ritornare in circolo? Metaboliti dei batteri, anche ormoni e quindi qui entriamo nel concetto appunto di estroboloma. Gli estrogeni coniugati alla bile possono essere attaccati da alcuni batteri e ritornare in circolo, favorendo quello che viene definito ricircolo enteroepatico degli estrogeni. E quindi la donna si troverà in una situazione di eccesso di estrogeni o metaboliti degli stessi e sperimenterà nel tempo tutto ciò che è legato ad una condizione che viene spesso dimenticata, perché spesso si fa riferimento ad un down degli ormoni femminili anche nella menorrea, ma a volte ci troviamo di fronte a un eccesso, a un relativo eccesso appunto come dicevo nel precedente video di estrogeni rispetto a progesterone. Quindi in questo caso noi dobbiamo andare a ripristinare prima di tutto l'albo per ottimizzare anche la componente endocrino e appunto metabolica. Come si fa e cosa consideriamo? Abbiamo detto la respirazione, un altro punto fondamentale è la quantità e la qualità della fibra alimentare, in quanto spesso vedo che in fasi di pre contest vengono diminuite drasticamente le fibre, quando una cosa molto semplice da fare sarebbe standardizzare la quantità assunta anche da determinate fibre che garantiscono la regolarità dell'atleta e da lì valutare anche introiti di fluidi e di sodio, in quanto se sappiamo che mangiamo determinate quantità di stesse verdure ogni giorno in un contesto pre contest mettiamo a tre mesi dalla gara quello lì sarà un nostro fattore costante, sarà una costante che non dovrà cambiare mentre possiamo giocare su carboidrati, grassi, anche proteine e soprattutto su acqua e sale.